Le elezioni in Sardegna hanno infine una vincitrice, più o meno. Lo spoglio è infatti formalmente ancora in corso mentre registro questa puntata, ma Alessandra Todde del Campolargo di centro-sinistra si è proclamata vincitrice, anche se assieme a lei vincono un po' i ritardi e le polemiche. Parliamo anche del lancio molto ben riuscito dei BTP valori da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del perché il Governo si è voluto dotare di questo nuovo strumento finanziario, delle manifestazioni pro-Bolsonaro in Brasile e dell'economia cinese salvata dall'energia pulita. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 27 febbraio 2024 e questo io non mi rassegno, la segna stampa commentata, l'Italia che cambia. Sigla! Domenica, come saprete, si è votato in Sardegna e ha vinto un po' il caos, direi, innanzitutto. E pare, oltre al caos, che abbia vinto anche Alessandra Todde, candidata dal cosiddetto Campolargo di centro-sinistra che comprende il PD, il Movimento 5 Stelle, di cui Todde è stata vicepresidente fino allo scorso dicembre, l'alleanza Verdi-Sinistra e altre liste. Dico pare perché, anche se è stata proclamata la vittoria durante la notte, ancora questa mattina, mentre registro, sono circa le 7 e 10 di mattina, mancano una ventina di seggi che devono ancora essere scrutinati e Todde sembrerebbe aver vinto per una manciata di voti. Todde, infatti, è avanti col 45,3% delle preferenze, seguita da Paolo Truzzo di centro-destra con il 45%, Renato Soru con l'8,7% e Lucia Chessa con l'1%. I titoli dei giornali web di questa mattina variano molto a seconda della linea editoriale barra politica del giornale. Come è ovvio, vi faccio qualche esempio. Repubblica titola in home page Todde, eletta presidente, la Sardegna punisce Meloni, Schlein cambia il vento e continua poi con tre articoli di cronaca politica in cui riporta le reazioni e le dichiarazioni dei principali partiti coinvolti. Ad esempio, Sardegna, Beloni infuriata, accusa la Lega per il voto disgiunto e Salvini lascia il CDM. Questa è la reazione dei partiti di centro-destra. La segretaria DEM, ora l'alternativa c'è, mano tesa di Bonaccini, merita di un applauso. Questa è la reazione del PD. E infine quella del Movimento 5 Stelle, si riapre il cantiere giallo-rosso, uniti battiamo la destra. Mentre, dall'altro lato, che ne so, Libero, ad esempio, titola sull'incertezza e le polemiche. Sardegna, Todde dichiara la vittoria, ma Fratelli d'Italia avverte spoglio incompleto, serve riconteggio in alcuni comuni. E, vabbè, cose di questo genere. Tutto questo perché, come nel 2019, a prendersi molti titoli dei giornali, soprattutto a destra, ma sarebbe stato realisticamente l'opposto se ha risultati invertiti, sono i ritardi, la lentezza degli scrutini, il mancato rispetto del limite delle 12 ore dall'inizio dello spoglio, entro le quali avrebbe dovuto concludersi lo spoglio stesso, quindi entro le 19 di ieri, ma, appunto, vediamo che queste ore sono state sforate di molto. Una situazione, appunto, simile a quella di 5 anni fa, in cui, addirittura, siamo andati per circa una settimana, prima che fosse effettivamente proclamata il nuovo presidente della regione. Comunque, devo dire che sono state elezioni un po' strane, perché il centro-sinistra, appunto, sembrava abbastanza sicuro della vittoria fin da ieri mattina, per quanto poi i risultati abbiano mostrato una profonda incertezza, probabilmente più profonda di quanto ci si aspettasse con i primi exit poll. Vi faccio due conti un po' a spanne per farvi rendere conto di che cosa stiamo parlando. Considerate che i due candidati principali, quelli che hanno ottenuto più voti, hanno uno scarto dello 0,3% delle preferenze, e se combiniamo questo dato con un altro dato, ovvero quello dell'affluenza, che continua nel suo trend discendente, anche se è abbastanza stabile in Sardegna, ma comunque abbastanza bassa, ha votato circa il 52,4% degli aventi diritti al voto rispetto al 53,9% del 2019, quindi ha votato circa la metà degli aventi diritti, diritto. Se combiniamo questi due dati, insomma, emerge un quadro in cui la vittoria di Todd è dipesa davvero da una manciata di voti, circa 3.000 voti, il che mal si accompagna con i toni e letture trionfalistiche di PD e 5 Stelle e dei giornali che ne sposano la visione politica, e che, ripeto, avremmo visto esattamente speculari se avesse vinto Truzzo, non sarebbe cambiato niente. Il punto è che la politica fa il suo gioco, i giornali fanno il gioco della politica, ma noi possiamo anche dirci, fuori dai denti, che una vittoria di una manciata di voti con la metà delle persone che ha votato non segna particolarmente un cambio di vento, né un trionfo storico, né una disfatta dall'altra parte, ma è un segnale più che altro di molta incertezza e un po' di disaffezione. Le elezioni regionali non prevedono fra l'altro il ballottaggio, il che penalizza ulteriormente le liste piccole, come ci ha ricordato Lisa Ferreli, e di fatto Todde, che è stata eletta presidente con 330 mila voti su quasi un milione e mezzo di eventi diritto, circa il 24% degli eventi diritto ha votato per Todde, nemmeno un quarto del totale, e questo dato forse è il più significativo, che ovviamente non è un demerito di Todde, ma è banalmente una fotografia della situazione, che però ci deve far riflettere sulle analisi e le conclusioni che traiamo, perché se poche centinaia di persone su un milione e mezzo avessero cambiato il proprio voto, oggi leggeremmo titoli completamente diversi, del tutto speculari, a parti invertite, il che ha un senso a livello partitico, anche perché c'è un po' la tradizione che la Sardegna anticipi il trend nazionale, ma in questo caso, ecco, non ha molto senso a livello di analisi e lettura delle realtà, che è quello che dovrebbero fare i giornali. Comunque, magari domani ne riparliamo a mente più fredda e più lucida e facciamo qualche analisi ulteriore, vediamo meglio che cosa ci dice questo voto anche da altri punti di vista. Intanto, se volete scoprire qualcosa di più su chi è la nuova presidente della regione e soprattutto sul suo programma elettorale, vi invito ad andarvi ad ascoltare la puntata di venerdì di Io non mi rassegno più, in cui la stessa Lisa Ferrelli ha fatto un'analisi molto approfondita dei programmi di tutte e quattro le liste principali. Ieri hanno debuttato sul mercato i nuovi BTP valori, ovvero dei particolari titoli di Stato pensati per le singole persone, anzi per i piccoli risparmiatori, come li chiamano i giornali, e gli economisti, che fra l'altro mi ha sempre fatto ridere come le stesse persone nel lessico economico diventino, a seconda del contesto, risparmiatori o consumatori, che se ci pensate sono due concetti esattamente opposti. Poi piccoli risparmiatori è una chicca, è bellissimo perché mi immagino questi minuscoli omini con dei minuscoli salvadanai a forma di minuscoli porcellini che mettono dentro le loro minuscole monetine, vabbè, scusate. Ve ne parlo non tanto però per condividere con voi le mie turbe mentali e non solo per darvi la notizia in sé ma perché è interessante conoscere il motivo per cui il governo ha fatto questa scelta. Ma partiamo come al solito dal capire di cosa stiamo parlando. I BTP o titoli di Stato o buoni del tesoro sono uno dei sistemi che utilizzano gli Stati per finanziare la spesa pubblica e gli investimenti. Quindi emettono questi titoli di debito in cambio di soldi con la promessa di restituire questi soldi a chi li presta allo Stato dopo un tot di anni con un certo interesse. In questo caso il nuovo BTP valore è una famiglia in realtà non è un unico titolo ma una famiglia di titoli di Stato rivolti esclusivamente ai piccoli risparmiatori che hanno riscosso già un discreto successo nelle emissioni passate scrivere pubblica e che assicurano un rendimento minimo del 3,25% dal primo al terzo anno salendo al 4% dal quarto al sesto e con un premio fedeltà dello 0,7% per chi conserverà i BTP fino alla fine. La notizia è che questi titoli di Stato sono andati abbastanza a ruba e nelle prime ore in cui sono stati messi sul mercato hanno superato quota 6 miliardi di euro che è un vero e proprio successo. Ma il punto interessante dal mio punto di vista è un altro ovvero perché il governo si è inventato questa nuova forma di BTP indirizzato esclusivamente ai cittadini ai singoli cittadini e non ad esempio come succede spesso a istituzioni finanziarie banche fondi di investimento e così via perché come spiega sempre Repubblica il BTP Valore è stato ideato nel corso del 2023 con l'obiettivo di accrescere la quota di debito pubblico in mano alle famiglie italiane attualmente poco sopra il 13% man mano che si ritrae il supporto della BCE c'è il timore che l'enorme mole di debito 2843 miliardi di euro pari al 141,7% del PIL secondo il consuntivo 2023 della Banca d'Italia finisca nel mirino della speculazione da parte di grandi operatori internazionali costruire un nocciolo duro di privati residenti nel nostro paese è visto come una protezione e qui sta il nocciolo della questione se avete ascoltato l'ultima puntata di Io non mi rassegno più proprio sul tema del debito pubblico saprete benissimo di cosa sto parlando altrimenti ve lo dico in breve nel 2012 Mario Draghi allora presidente della BCE fece la famosa mossa whatever it takes con cui questa era la sua famosa famosa frase con cui annunciò questa misura con cui appunto decise di rendere la banca centrale europea compratrice di ultima istanza di tutti i titoli di debito dei paesi membri invenduti questo meccanismo ha fatto sì che buona parte del debito pubblico italiano ma anche di altri paesi europei sia finito negli anni nelle mani della BCE che è un ente molto stabile e che soprattutto non fa scherzi non fa speculazione non vende i titoli per cercare di far salire i tassi di interesse e quindi specularci sopra mentre solo una piccola parte è attualmente posseduto da fondi di investimento e altri attori finanziari due anni fa però Christine Lagarde ha interrotto questa consuetudine questa decisione di Mario Draghi con l'intento di ridurre l'inflazione quindi ha deciso che la BCE non avrebbe più comprato i titoli invenduti e oggi il nostro debito è nuovamente nelle mani in maniera crescente del mercato e una quota sempre più grande finisce nelle mani appunto di grossi hedge funds e altri attori finanziari il che lo espone a potenziali speculazioni come quelle che ad esempio ci mandarono in crisi nel 2011 e portarono alla caduta del governo Berlusconi per minimizzare questo rischio quindi il governo sta chiedendo ai famosi piccoli risparmiatori quindi le famiglie le persone di comprarsi titoli di debito italiano perché come insegnano alcuni esempi tipo quello del Giappone un debito nelle mani di piccoli investitori dei cittadini del paese stesso è molto più sicuro e meno problematico di un debito appunto nelle mani di meccanismi speculativi su questo vi faccio sentire due minuti due della puntata di non mi rassegno più in cui intervisto il professore Alessandro Volpi che è uno dei maggiori esperti sul tema che abbiamo in Italia professore dell'università di Pisa e in cui appunto il professor Volpi spiega questi meccanismi in maniera molto chiara e per me ma anche molto interessante e direi illuminante quindi vi lascio alle sue parole se poi siete abbonati o volete abbonarvi vi lascio in descrizione tutta la puntata intera della io non mi rassegno più dedicata al debito in cui trovate tante altre informazioni interessanti e che potete ascoltare però appunto solo se siete abbonati e loggati l'Italia aveva storicamente avuto fino alla libera circolazione dei capitali un debito che era posseduto dagli italiani e in parte comprato da Banca d'Italia da partire agli anni 80 una parte significativa del debito italiano finisce nelle mani del sistema finanziario internazionale quindi grandi banche fondi eccetera eccetera con una lievitazione degli interessi molto importante a partire dal 2012 si è assistito a un processo che ha cambiato la composizione della proprietà del debito perché la Banca Centrale Europea ha comprato praticamente quasi per intero tutte le nuove emissioni di debito quindi oggi noi abbiamo una situazione in cui una parte importante del debito italiano è nelle mani della Banca Centrale Europea un pezzetto è nelle mani della Banca d'Italia che la Banca Centrale Europea ha usato per comprare il debito italiano una parte è nelle mani delle banche italiane che hanno utilizzato i finanziamenti della Banca Centrale Europea e un pezzetto è nelle mani dei risparmiatori e i grandi fondi eccetera eccetera le banche internazionali pesano relativamente relativamente poco il problema che nasce per l'Italia è che la BCE ha detto che non ne comprerà più quindi questa torta è destinata a subire una modificazione per cui torneranno ad essere preeminenti o comunque rilevanti i compratori internazionali cosa sta facendo il governo italiano lo aveva già fatto il governo Draghi lo sta rifacendo il governo Meloni provare a costruire dei titoli del debito pubblico che vengono venduti alle famiglie italiane BTP Valore BTP Italia per aumentare la fetta di titoli che sono nelle mani di risparmiatori nazionali perché certamente qui vengo al caso giapponese un paese dove il debito è nelle mani di cosiddetti investitori residenti quindi risparmiatori e banche di quel paese tende a dipendere meno dalle fluttuazioni dei tassi di interesse internazionale meno dalla grande finanza e quindi ad essere sostanzialmente più stabile mentre negli Stati Uniti Trump continua a sbaragliare la concorrenza nelle primarie repubblicane il suo omologo brasiliano Bolsonaro sta chiamando a raccolta i suoi sostenitori per mostrare di non essere ancora del tutto fuori dai giochi l'ex presidente brasiliano che condivide con Trump uno stile non proprio sobrio diciamo un po' controverso è riuscito a raccogliere una folla enorme domenica a San Paolo con più di 100.000 persone radunate per sostenerlo nonostante le tante accuse che pendono sulla sua testa accuse che sono piuttosto pesanti si va dal tentativo di sabotare le elezioni presidenziali del 2022 quelle che hanno visto la vittoria di Lula fino al sospetto tentativo di modificare i risultati elettorali di quelle stesse elezioni e complottare contro un giudice della Corte Suprema e senza dimenticare l'assalto alle istituzioni brasiliane dell'8 gennaio 2023 anche qui molto simile a quello di Capitol Hill negli Stati Uniti dopo la sconfitta di Trump contro Biden un evento quello brasiliano che ha fatto gridare al tentativo di colpo di Stato con Bolsonaro che all'epoca si trovava in Florida ma che è sospettato anzi accusato di aver fatto pressioni sull'esercito perché si unisse ai manifestanti e di fatto facesse una specie di golpe quindi ecco non cose proprio leggere e pensate che all'inizio di febbraio le autorità brasiliane avevano persino sequestrato a Bolsonaro il passaporto per impedirgli di andare all'estero temendo forse un suo tentativo di sfuggire a un eventuale arresto ciò nonostante appunto la manifestazione di San Paolo è stata veramente impressionante se cercate qualche immagine online ne trovate decine centinaia e un articolo del post descrive questa sfilata di bandiere brasiliane molte delle quali con il viso di Bolsonaro al centro e persino qualche bandiera di Israele a supporto appunto dell'aggressione israeliana contro nella striscia di Gaza e racconta anche il discorso di Bolsonaro che si è presentato circondato da politici con le braccia alzate sopra ad un carro da cui ha tenuto appunto un lungo discorso in cui ha negato tutte le accuse ovviamente anche se spiega l'articolo lo ha fatto con un tono più conciliante rispetto a quello usato fino a pochi mesi fa ad esempio non ha attaccato direttamente la Corte Suprema e le autorità brasiliane e secondo tutti i principali quotidiani internazionali questo cambiamento sarebbe dovuto al fatto che il suo team gli avrebbe fatto capire che qualsiasi commento contro le autorità o le istituzioni brasiliane in questo momento potrebbe metterlo ancora più in difficoltà comunque al di là di ciò sembra che la saga di Bolsonaro possa non essersi conclusa del tutto e ipotizzo anche come abbiamo visto con Trump che le vicende giudiziarie possano in realtà fare abbastanza il gioco dell'ex presidente compattando i suoi seguaci attorno alla sua figura e alimentando un po' una narrativa del noi contro tutti tutti contro di noi che fa piuttosto breccia negli ambienti della cosiddetta alt-right o destra cospirazionista potremmo tradurla così di cui buona parte dell'elettorato di Bolsonaro quello più popolare poi c'è tutta una fetta di elettorato composto dalle potentissime lobby delle armi dell'agribusiness e così via però con tutta la parte di elettorato più popolare fa parte fa riferimento un po' a questo tipo di movimento internazionale che è lo stesso di Trump lo stesso di Javier Milei e di tanti leader cosiddetti populisti di destra questa è davvero interessante Valentina Neri su Valori racconta che nel 2023 mentre buona parte dell'economia cinese navigava in acque turbolente fra crisi immobiliari e fiducia dei consumatori al minimo c'è stato un settore in grado di trascinare letteralmente un po' tutta la baracca e vi assicuro che la baracca dell'economia cinese non è proprio una baracca da poco una roba gigantesca ed è il settore della cosiddetta energia pulita considerate che gli investimenti in energia pulita oddio diciamo più o meno pulita poi vediamo perché hanno tenuto a galla la seconda economia più grande del mondo facendo crescere il suo PIL del 5,2% e questo settore da solo ha contribuito al PIL cinese per 1500 miliardi di euro ovvero più del prodotto interno lordo di buona parte dei paesi del mondo l'articolo di valori analizza poi anche che cosa c'è dietro a questi numeri impressionanti mostrando come possiamo immaginarci aspettarci un mix un po' chiaro scuro di robe fatto da rinnovabili nucleare reti elettriche smart stoccaggio di energia veicoli elettrici e ferrovie l'aspetto interessante però è che la Cina ha investito in questa energia più o meno pulita considerando appunto che c'è dentro anche il nucleare non possiamo considerarla energia rinnovabile al 100% ma il nucleare è comunque in una percentuale non così determinante all'incirca dicevo la Cina ha investito in tutto questo settore all'incirca la stessa cifra che tutti gli altri paesi del mondo messi assieme hanno investito in combustibili fossili è una roba abbastanza impressionante detta così fa veramente riflettere e la transizione energetica ora sembra essere una priorità in Cina leggo dall'articolo di valori in una fase in cui l'immobiliare scricchiola dunque la transizione energetica diventa uno dei capisaldi dello sviluppo economico industriale cinese un fatto di cui l'esecutivo di Pechino non può non tenere conto nel perseguire le proprie politiche climatiche già l'or scorso anno come riferisce l'agenzia internazionale dell'energia la Cina ha commissionato una quantità di energia solare fotovoltaica equivalente a quella del mondo intero nel 2022 tanto da essere destinata a centrare con sei anni di anticipo i suoi obiettivi per il 2030 in termini di installazione di eolico e solare l'effetto traino si ripercuote sul mondo intero come peraltro dimostra l'impegno congiunto con gli Stati Uniti a triplicare la capacità di energia rinnovabile nell'arco del decennio poi ovvio noi possiamo dirci anche tranquillamente perché ormai lo sappiamo con certezza che non sarà la crescita verde a salvarci se non siamo disposti al tempo stesso a un certo punto e il prima possibile aggiungerei a rivedere i nostri sistemi dal punto di vista macroeconomico compresi gli indicatori di sviluppo e benessere per mettere in discussione il paradigma della crescita però ecco al netto di questo che non è una cosa da poco prendiamo comunque questa tendenza come qualcosa di molto interessante e complessivamente come una buona notizia detto ciò io direi che noi ci possiamo salutare qua io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno sempre a partire dalle 8 su canali di YouTube sulle principali piattaforme di podcasting nonché sulla pagina rassegna stampa del cambia.org voi mi raccomando state bene fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto